ho scritto qualcosa di veramente eccessivamente greve però boh di solito il sì però qualcuno di eccessivamente greve molto eccessivamente sì infatti gente tanto greve non ho mai fatto banna di ripicca peccato è così divertente te lo giuro iai posta male occhio a scrivere questa cosa è cambi due lettere vieni bannato fra no mi ricominciamo lo sbanno io lo sbanno io cazzo ma perché io non mi sento di dargli questa soddisfazione perché dovrebbero è una domanda interessante scrivimi qualcosa di sbagliato se vuoi essere bannato che va contro i tos di twitch così io ti segnalo e ti chiudono pure il canale ti devi fare un nuovo profilo se hai le palle quelle non le ho mai avute a che ora siete in live stasera fino alle 23 cosa ci dice ora la nostra pazza schedule allora in linea di massimo dovevamo guardare le clip del canale e fare memory lane top questo posso farlo io questo è vero puoi farlo tu puoi condividermi lo schermo con grande amicizia amore twitch vabbè mi si apre su curo lì di twitch non so perché però share your screen va bene quindi non so se volete dire altre serie tv altrimenti vi lascio libere che sono amiglietti la vita è fatta di sensazioni uniche ognuna al suo proprio come una musica sto cercando di far andare discord che mi sta mi stava implodendo ok partiamo da top di sette giorni che sono sette madonna ragazzi veramente triste questa cosa comunque e di cui quattro no sono sei non sette quattro di sei sono state fatte in questa live allora sto sistemando la shop in modo che non copra no raga sono veramente troppe questi clisp troppe clisp qua che te grazie mille del quacquerino allora ci siete? ci sei? io sono qua assassino in diretta in che senso? scusami che altro ho deciso? c'è il mio compagno ma guarda che mi è stato ammazzato alla fianco e non me l'accorgo sì sì zero ti stai facendo proprio i cazzi tuoi enormi io non metterò a nostro giro e quindi cosa? cioè potevo rendermi immune per un periodo stavi facendo un segotto credo sì sì no per secondi cattivo è l'abilità che interagisci con te e muore ah ok 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 ho capito si dado se mi hai visto è perché l'ho visto è stato bello ma no ma io ero morta mi sa sì sì tu eri morta ok ecco perché non stavo facendo nulla no sì sì non eri in vita poi le altre sono tutte di adesso poi le altre sono tutte di adesso among us con i puponi? vediamo perché così saprò così sarò a conoscenza delle informazioni necessarie che informazioni? un po' si gode ah qua è quando ti avevo scritto per il medico per come funzionasse ah sì è rip amico mio mettiamo top 30 giorni così? come i pazzi? allora ma? si è scomposto no 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 aspetta fammi mettere le nostre cam non sopra le nostre cam esatto che se no è un problema che bello stiracchiarsi non c'è niente di più buono di una stiracchiata che l'avevo dimenticato ma? si è scomposto no 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 hai sgravato amore hai sgravato ma Saru amore non te sei parata non te sei assolutamente parata ma quanto laghi te cioè c'era una linea che era lo sgravo tu l'hai superata te lo dico ma perché laggo così tanto? ah no no oddio oddio dove è andata? no dove sta andando? no dove sta andando? bellissimo mamma mia che momento bellissimo io come l'impressione che sia ancora dentro questa casa in realtà che bombe palloncini eh si è dentro la casa l'ho visto l'ho visto l'ho visto ci ho cagato quella dove sono io? si piano? ah madonna mi sono effettivamente fatta la cacca addosso ho cagato totta gamer si caga addosso madonna ragazzi ho preso un infarto perca droga mi sono effettivamente messa molta paura guardando avanti onesto ah questo è quello di ieri già mi stai dicendo che la clip con 11 più sei già tra le più viste minchia oddio la skin di totta è orribile bellissima non vi permettete non diteglielo quando torno però è vero ma mi sa che ci sente no eh si mi dispiace non so è ormai rovinato perché non pronto tutto non pronto? perché sta entrando scusatemi bello ti abbiamo insultato mentre non c'eri minchia saltiamola che bella saltiamola ma cosa è questa cosa qua? vuoi vedere questa cosa qua? lo vedo anch'io si ma che è? non so però fa molto ridere ma che è? è come se ci fossero delle finestre fantasma oddio perché è tutto così storto? ma che cazzo? cipi cipi ciapa ciapa lubi lubi laba laba vabbè ehm a bete l'emme a bete l'emme andate ma che ce la facciamo vedere ora? ma mi sa che oggi la stella cometa non prendeva bene mi sa che ne è più tornata oddio eccolo oddio l'ha proprio indossato ma l'ha indossato Bert ma sei uguale cazzo ma i capelli sono quelli eh? i capelli sono quelli davvero Gesù merda sei veramente uguale ma falla qua è bellissima questa cosa io non vedo il mio santino c'è una mina qua eh questo è veramente 0,25 ragazzi c'è una mina qua eh c'è un tipo di emeo che è molto arrabbiato saltiamola saltiamola no cazzo questa è bellissima questa è bellissima c'è una mina qua eh ma questa bisogna farci un tic toc subito è un tipo di emeo che è molto arrabbiato saltiamola saltiamola no non riesco a smettere di vederla c'è una mina qua eh saltiamola perché poi prima mi guarda questo cazzo di knuckles e mi fa saltiamola 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 no non riesco a smettere di vederla è stupenda è stupenda questa forza cazzo vai ok perfetto urla se stanno arrivando Axel ma che clip è? non so cavallini sulla mia maglietta oh ai mina coglione disinstalla beh anche meno è una clip caotica vabbè tutti eh aspetta voglio salire vai eh questo è stato veramente divertente bello quella sera è stata veramente divertente raga è stato bellissimo è stata veramente divertente capoluranza aspetta eh si 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 Concentratissimo Oh io sto traier dando Esistono due lupi dentro di noi Qualcuno raga Qualcuno in chat può fare il meme Con questa clip con I have two sides E poi ci sono io con la musica triste Qualcuno me lo può fare Me lo manda su Instagram O sul gruppo sub Madonna dolore Poche volte nella vita Mi sono sentito così Perzo in comodo Madonna e ti fa il duetto da sola Send help Dovrei fare questo format Perché sono tutte delle pippe al culo Cioè io ero fortissima Oh io avrei vinto ogni cosa Porca troia Ragazzi ricordatevi sempre Su quale game io potrei mai aver detto Una frase del genere Non lo so Non lo so ma a quanto pare Sempre totta La sua grande dono No amo perché io oggettivamente Sì la musica Ma so che gioco Ne so Ah il J band Ok ok Ci sta Tutti desincatissimi Comunque questi sono tutti i TikTok della Madonna Perché non li mettiamo Questa è proprio Le my last two brain cells Alla fine dell'anno scolastico Madonna Daiardo Una delle cose peggiei è orribile è orribile il tasto c'è tipo un radar siamo arrivati a foggia ciao no io ho paura di fare ci sei schioppetto è una bellissima che posso dire il sindaco di foggia no che non c'è più la musica ora è cringissimo c'è il silenzio I have two sides tutta che balla è nulla perché si guarda ma cosa guarda stiamo a destra non di nuovo ti prego cosa ho fatto di male cosa ho fatto di male funzionava così bene fino a due secondi fa not again please ti prende lo zainetto per spingere quel trabiccolo infernale ho il timore che stiamo andando ancora più in basso no 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 puttana tua mamma siamo vicini a casa davvero si vieni no ma cos'hai fatto grazie arti cosa è successo sono god per fiare arti mi sa che c'è brutta notizia devo dire che praticamente ecco mi dispiace no saltiamo la 025 questo è il sequel saltiamo la 025 ragazzi se avete il prime fate un mese da me infatti un mese è un mese un mese da me un mese da bertra questo come potete dire nove giorni fa già ne abbiamo parlato per tutti quelli che in live oggi è tipo un balcogna abbiamo già spiegato infatti ma sì ci scegliamo come canale oh madonna questo è quando vi state sistemando Little Company e io a me non ce l'ho c'è stato un ballo non so se l'hai visto sì sì io la carrozzella Angela fatemi mettere la canzone di Titanic mamma mia raga fai le bolina? ho ricevuto non si sente di gusto ciò ah di nuovo te che balli nel nulla è bello che si sente piano piano un pochino dalle cuffie che bello che balli basta dobbiamo dropparlo dentro ok l'ho droppato io il mio no qua dentro se siamo ancora del generatore manchi i zingari con rame porco due bravo madonna oh chiare è tutto ok chiare è tutto a posto eh dai ha deciso di non farlo con le prime partite no in realtà è il primo game perché Axel spennare la figa ragazzi ma non andiamo più iniziato neanche in realtà è il primo game perché si chiama DirectX12 per fai figa da merda Axel sai dove te lo metto il DirectX te lo direi ero dentro il buco del culo mi devi spennare la figa ragazzi ma non andiamo più iniziato neanche da due minuti cos'è questa cosa la smettetemi di fare gli uomini si può dire no va è una roba di macchine con circuito e boss ma questi sono chi i pacchetti oh se volete provare una partita io ci sto Shakira Shakira vai oh baby when you talk like that oddio come era già successo qualcosa di per te no devo saltare fa tutto uno scatto strano tieni torniamo a casa ah così abbiamo già preso tutto ma magari ci sono un sacco di posti da guardare vabbè ma non possiamo fare avanti e indietro senza perdere la roba eh oddio in realtà si fatemi prendere qualcosa a me dato che io oh attenzione è parecchia dure mi ha preso generatore vabbè è ripamico ah ma no ma perché c'era nella chat io che avevo scritto fatele clip di me che cado ti ricordi quando sono volato di sotto e hanno sbagliato a farla ah fa molto ridere complimenti 10 su 10 c'è un altro c'è una mina saltiamola c'è una mina qua eh oh c'è un tipo di enro che è molto arrabbiata saltiamola saltiamola no è così bella è così bella sta clip ah io voglio ora reagire solo a quelle che hanno no solo quelle che hanno dei nominchi al mio culo ancora eh il tuo culo è lì è lì è un minchia totta jumpscare eh ma queste sono tutte vecchie vediamo la prima la prima recente che c'è qua anichilito mentalmente ah si lo ricordo solo quello se puoi accettare questa mia debolezza no me lo ricordo io cosa succede totta grazie brai comunque scusami io mi arrabbi grazie brai perché porco dio volevo andare in portacolo scusa allora io questo devo ammettere che è uscito dal profondo del cuore non lo volevo dire io amo questa clip clean comunque era tranquilla come cosa eh cos'è Karen pro la zoofilia scusa dove? devo essere in alto sinistra onestamente pro sempre pro era estremamente autoesplicativo comunque si posso dire oh un god infatti solo che non ho buchi qua ma che cazzo ok ok ma che cazzo ok big shot di qua perché cazzo hai cliccato lì fra oddio merda è vero che nei due big shot di qua o perché cazzo hai cliccato lì fra oddio merda è vero che nei due che poi ti diceva ma è bestemmiato e tu mi continua a dire che non era vero è vero però non l'ho bestemmiato però sembra troppo però sembra troppo ciò che di qua perché cazzo hai cliccato lì fra oddio merda è vero che nei due me ha fatto ridere me ha fatto ridere questo è quando ho conosciuto Manu ah è vero la mamma di Manu è Manu è Manu è uno dei top donator praticamente Manu momento totta totta daddy ok momento cena perché questo sono io da sola? maratona di 36 ore questo è la questa che è che che rompe la eh sì dovrebbe eh sì maia ah no eila questa è un'altra parte di lore robertra dance perché ci studiamo insieme? ma a caso madonna chi è sto qua? aspetta fai mettere cipi cipi ciappa ciappa sotto questa cosa minchia cipi cipi ciappa ciappa sono tornato dal ban più forte che mai è tornato qualcuno che ho sbannato bella lì ma vai a tempo con cipi cipi qualcuno faccia qualcuno faccia un altro tiktok ma va tempissimo è vero è perfetto oddio è stato solo a tempo grande marghes così ti vogliamo bellissimo un pacco lavoro un pacco lavoro ok ciao Sara certo andrà su uncut ora sono curiosa di questa cosa invece è qua e neanche lo vedete perché questo passa mentre dal lato no caputana tutto lo scherzo prendo un ndi rapido vabbè che cazzo sto a spiegare microfono in un quale universo questa cosa può essere consigliata relativamente bertra dance una live dove c'è bertra io che mi guardo le tette so che ti guardi le minnes no vabbè io vado a messina minchia hugin che tristezza si cazzo va a messina poi vado a lisbona poi ditemi com'è lisbona poi ci devo andare anch'io farete qualche fiera in veneto non lo so non lo so se esistono le fiere in veneto perché voi avete le vacche nulo va bene eee momento nanna 5 mesi fa abbiamo fatto una live a casa mia vecchia no perché è il comodoro ah la pizza il mood comunque posso dire che mi ha fatto ridere oh eccolo ma perché così poche views fa metti eric minchia sato un dodicenne mi ha ucciso aiuto oh no aiuto ma fra mai fi eric fra mai fi eric onesto divertente appolavoro onestamente molto divertente e simpatico ma perché c'è un botto di clip di io da sola minchia la clip del gatto che ricordi eh quello è divertente bellissima bellissima c'è ogni giorno si sempre fatto ah ma io lo faccio sempre il mio gatto eh proprio quello si no 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 bravo comunque posso dire il tuo sfondo ha avuto un grande downgrade da quando hai tolto quella cosa secondo me lo dovresti rimettere, era molto carina è vero, non è male metterò qualcos'altro però ora a vedere le due cose a confronto, mettete delle mensole piuttosto sì, no, infatti volevo prendere delle mensole o un altro mobiletto più utile ho visto un foreshadowing che mi ha fatto ridere io no è rip amico mio che ti devo dire e mo se magna al momento Totta e Bertra partono robe ma? mi piace di più sei tu Totta ah sì ti amo wow grazie Bertra eh? grazie che secondo me scusa ti ho già detto ti ho già detto tutto però che è vero cipi cipi ciapa ciapa giubi 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 di happy ending or is it cos'è? che è sta cosa? sì ma premiesco scusa ho riso è la DreadX collection è una collezione di giochini horror momento in macchina con Bertra non solo in macchina qualcosa di più carino prendo il caricatore e il cellulare che si avviva oh il tx2 è bello non lo metto in ok gambero cipi 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 tiapa cia Bertra to talk Bertra want to come voglio vedere sta clip voglio vedere sta clip occhiali veloci per YouTube per veloci 10 HP Come Orange Ma Tanti lo sai che mi sa che ho perso i miei occhiali veloci durante il trasloco? No Sono molto triste Ancora Ma perché ci sono così tante clip di mette da soli? Vecchie però Belli Miau 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 brio C'è la clip del muro? Che dovrebbe essere silenzio totale tra l'altro questa clip È solo musica? Sì Rip il muro minchia ragazzi per togliere sto cazzo di muro porca troia È stato complesso Sai quante ore era stata questa live? No 11 ore Che palle E abbiamo fatto metà forse Quasi bacino di Ale Totta Adesso Cipi cipi Gnom gnom Minchia vicinissimo Vicinissimo Dicendo che sono napoletana Quindi sono incinta e sono napoletana Siete tutti invitati al mio gender reveal party Snuffato sincero Snuffato sincero Snuffato sincero Bertra mi ringrazia Grazie 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 mille Poggeroni Grazie mille Bacino Basta È stata una bella clip Lo posso dire Bertra Migulin Si è proprio di Milano Centro Don't be on the floor Use the come bar Oh porca Ho riso anche adesso Non posso dire di no Al momento Gigi la trottola Hatsune Miku Usciro La storica amica di Ai Di Francoforte Francoforte In quale cartone Il protagonista One Piece Un pezzo Come si chiama il cartone Con protagonista Pollon 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 C'era una volta Pollon C'era una volta Pollon No 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 Gigi La trottola G G G G Che assoluta lorra Che assoluta lorra I youtuber di Minecraft nel 2015 Quando non sapevano cosa fare Al quattromillesimo episodio Della loro serie vanilla Ed ecco qui Il quattordicesimo Dipinto Della regina Elisabetta Fatto in In pixel art Mi raccomando Mettete un bel mi piacione Grazie al Biori Alex Ma per me Dello schermo così non mi vedono le cose Vero? Boh Vabbè Ok Ma che cazzo di posizione sto in quest'anteprima? Minchia l'ascella Porca troia Cipi cipi ciappa ciappa Cipi ciappa ciappa Cipi ciappa ciappa Magico No No Mamma mia Ma te l'ho detto Si è troppo fa Ma in che senso Le gigantesche tettolone Le tettolone anime Ma in Pupas Ma in Pupas O se ero così Pupes Ho snuffato Cos'era L'ultrasuono Minchia a Gustavo e Flavia Eh quello comunque è stata una bella lore Posso dire Questo video si mi ha fatto molto divertire Oh no Ma porca puttana Vaffanculo ragazzi Riavvio il pc Arrivo Prego il cazzo Lo spengo così Ma Vertra Ma Vertra Ma Vertra E non stava andando Non ti idea cosa devo farci È stato un vero momento Cioppi cioppi ciappa ciappa Cipi cipi E la madonna La nanna La nanna Tutto bene Totta No Ah ok No scusa Lava Vai vai Lava 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 Non vuol dire niente Brr Brasi Bau Ma mi spighi perché Vabbè Un bel clip Per tiktok Ok Vediamo se merita Faccio partire il test Ciao Questo è un messaggio di prova generato con Azzur Prego Dimmi cosa ne pensa del Napoli che ha vinto lo scudetto Cosa ne pensi della squadra di calcio Napoli che ha vinto lo scudetto Mi dispiace ma devo correggerti Poiché non è stato il Napoli a vincere lo scudetto nell'ultima stagione del campionato di calcio italiano La squadra che ha trionfato lo scorso anno è stata l'Inter Impegnata nello sport professionistico a livello nazionale e internazionale Ma che cazzo Tuttavia Pur non potendo esprimere giudizi Apprezzo sicuramente l'entusiasmo e la passione che gli appassionati del Napoli dimostrano per la loro squadra Del Napoli Raga qualcuno mi Qualcuno mi può fare la clip al volo che questa la metto su tiktok istantaneamente così mi Non l'hai mai fatto ovviamente No non l'ho mai fatta Ah menzogna Mi dispi a margas Io che dormo Voglio vedere io che dormo Perché è così low quality? Perché è buio Ronf Mi 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 Ronf Mi 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 Come dicono i giovani d'oggi GG Grazie Enderfox Niente sono io Morso Proof Si è subbato Oh ma mi sta lagando un bo Fammi chiudere un attimo Chrome Porca troia Stai implodendo Glo-glo-glo-chrome Madonna raga Pensate Tutte queste cose che avete sempre dato per scontato Adesso non ci sarà più Nessuno Nessuno Nulla di tutto ciò esisterà mai Vabbè Bertha sei esagerato Perché? Perché è vero No ma guarda quando vado nelle clip mi succede questa cosa Ti lagga? A bestia? No mi è sì In tutto il resto no Super good Non ho idea Non te lo meriti Eccoci Ecco Ragazzi Hai dovuto cambiare postazione Mi hanno esploso Non piangere perché finita sorridi perché è successo Mi piace con il vostro mindset Il mindset che invece non c'è Tutto sbagliato Mindset Cipi cipi Ciappa ciappa Giubi giubi La 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 Io ogni volta che starto live c'è sempre un po' tutto il problema Quindi Mo? Quindi Mo Andiamo a vedere la van... Che vuol dire che per mezz'ora possiamo Fare la cosa Il piano di Marbles Però mi devi dire tu come funziona Marbles Sì 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 Allora Non so se tu ce l'hai Non so se costa dei soldi In che senso? Si chiama Marbles on stream Su Steam E Io lo sto installando No è gratis A posto Puoi installarlo e poi si connette col Con Steam Con Twitch E Il sub Hanno la loro pallina E rotolano È molto divertente In realtà non è divertente Però è È una di quelle cose stupide Puoi anche non farlo Cosa? Cioè possiamo anche fare qualcosa di molto più bello Tipo parlarci guardandoci negli occhi Si è verificato un errore Ottimo Ottimo Vabbè Io propongo di giocare al bellissimo gioco dei criceti Totta come sta il tuo criceto? Oddio chissà che fine ha fatto Morto di fame Spero di no Io vado al volo a prendermi dell'acquetta Bertra Bertra laghi un botto Sei frizzatissimo Beh ottimo Ci sarà la mia faccia Mentre vado a mangiare No cazzo Adesso sono le mie tette Sì ma laghi tantissimo Rip amico mio E mo si mangia E mo si mangia Hai fatto una cosa sbagliatissima Sara Che hai fatto? Che hai fatto Saree? Dimmi un po' Dimmi un po' Comunque vabbè Userò questo vento di Che non c'è Bertra Per Rishoutare Totta Che sono io se non lo sapeste Mi chiamo Totta Piacere di conoscervi Ehm Yasa fa Sto game Sto game A scaricassi Marble to stream Cipi cipi Ciappa ciappa Ciuppi ciuppi Ciappa ciappa Uuuu Tutti Non lo dico anche su Twitch Ma che è successo Agli amichetti quindi Niente ragazzi Semplicemente Gli amichetti Continuano ad esistere Come sempre Semplicemente La parte live Cambierà Quindi Per la parte live Ci troverete Divisi Quindi Io streamerò su Totta Bertra streamerà su Bertra Che è Presidente amichetti Che tornerà ad essere Bertra E E quindi Basta Questo semplicemente succede Però continuano ad uscire Cioè Riprendendo ad uscire Le video su gaming Uncut prosegue Prosegue tutto praticamente Madonna santa E che l'è E che l'è Uuuu Grazie 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 Allora Cipi cipi Ciappa ciappa Sono felice di questa cosa Dream Io vi voglio molto bene Mi si sono spacchete tutte le labbra Invece Alla Vi dirò insieme con ospiti Che giorno fate A mo Si parla di gennaio Ancora non abbiamo scelto un giorno Questa con cui sono stata Non è un bravo ragazzo Questo con cui sono stata Non è un bravo ragazzo Piscialo Si Fanculo Noi vogliamo soli bravi ragazzi Io normalmente Clicco gioca su Marble Zone Stream Gioca a Marble Zone Stream Che opzioni di lancio scelgo Marble Zone Stream normale O O DirectX 11 Quali di questi due ragazzi Which one is better Better than revenge Questa è l'ultima live sul canale amichetti Quali di questi due secondo voi Vabbè prenderò il primo Fanculo Non mi avete dato una risposta Vabbè Cipi cipi ciappa ciappa ciubi 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 ciappa cia Turu 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 Tu 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 Eh mo Non ci posso giocare io Perché no? Eh perché devo fare il login su Twitch Ma non ho gli accessi Perché no? Le hai persi? Eh no Sono su 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 Tottai Ah poi non me lo fa fare i sign in su Twitch Scusa Sign in Marbles On stream Link your Twitch account Marbles on stream Link my Twitch account Eh Vabbè Sloggo al volo Amichetti Mi devi dare Mi devi mandare il codice dell'auti Oh sì certo Ah non stavo assolutamente per dirtelo ad alta voce Vabbè tanto sti cazzi c'è Grazie Marghe Grazie Marghe Ciupi 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 pi 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 Da quando te l'ho chiesto Che cazzo Che cazzo Tiè Dimmi se è giusto se funziona Sei il cipi cipi Ciappa ciappa Dubi dubi raba raba Ok Affungiuda Affurnuda No non funziona Perché mi dice di fare il login su twitch E quando lo faccio non c'è nulla Cioè mi apre solo la categoria Di twitch Prova tu vedi Dimmi se funziona No me l'ha fatto Allora se rimatiamo Al massimo usiamo Mi rimandi il link del coso di ieri Che faccio la fotocamera virtuale Te lo mando così è decente Riprendetelo Riprenditelo No si chiama BS Ninja No tranquilla Me lo riprendo Allora Totta Io sono diventato in bianco e nero Ovviamente Tipico Tipico Vero momento Bertra comunque Farò onesto Cerca No dove cazzo Link Ah no Eccolo qua Copiato Mandato Belle palle Perfetto Fondiamo la Catanzaro Lido Comunque sai che mi sa che ti conviene streamarmi lo schermo Siete meglio Perché almeno c'è pure l'audio Non so se c'è l'audio però C'è la musichina ma non è utile Vabbè dai streama su Discord Oh yeah Perfetto Fatto Fatto Yeah Allora Grazie a tutti Grazie a tutti